Sono oltre 19 milioni di euro che si riferiscono a decreti ingiuntivi non opposti dal comune riconoscendo la validità e riguardano i 9 milioni richiesti da Ecologia Oggi e il debito che ha Collasolicala che è superiore ai 6 milioni di euro. Debiti certi, noi siamo abituati non a fare polemiche ma a cercare di evitare il distesso del comune di Cosenza. Che il duo Chiudo e Vigna stanno portando avanti se non c'è una rapida modifica a 360 gradi delle politiche finanziarie del comune di Cosenza. Ma poi c'è l'artificio contabile. Noi nell'ultimo bilancio abbiamo aumentato la quota per la vendita degli beni immobili comunali da 2 milioni e passa a oltre 4 milioni. Sa quanto è stato incassato fino ad oggi? 140 mila euro, meno del 10% di quello che è previsto. Questo è finanza creativa che serve a far quadrare i conti. Grazie.